Potremmo dire che è una specie di metronomo, va bene? Però un metronomo particolare, asimmetrico. Infatti la clave più comune, che è la clave di son, fa così. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perché è così importante? Diciamo molto brevemente che tutti i brani di musica, cantata, suonata o anche solamente percussiva, prendono la clave come punto di riferimento e quindi tutto ciò che viene suonato si incastra con la figurazione della clave. Vi faccio un esempio di un pezzo che tutti conoscono. Oie como va! Mi ritmo, bueno pago sa Mulata, oie como va Mi ritmo, bueno pago sa Mulata Come avete visto, proprio le sillabe, la metrica della canzone, è perfettamente appoggiata sugli accenti della clave.